Aspetterà i dati forniti dall'unità di crisi che saranno valutati con il prefetto di Salerno e il mondo della scuola e i dirigenti scolastici per decidere insieme su come procedere per la gestione covid nelle scuole. Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli questa mattina a poche ore dalla riunione dell'unità di crisi della Campania che alla presenza del governatore Vincenzo De Luca ha rimandato ai sindaci e ai prefetti della Campania la scelta di poter chiudere e valutare la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine grado fino a marzo. Mi muoverò come è prescritto nel senso che aspetteremo con i dati che ci verranno forniti dall'unità di crisi li valuteremo insieme al prefetto e al mondo della scuola i dirigenti scolastici e i vari attori della nostra scuola e decideremo insieme con intelligenza con un'attenzione particolare alla salute dei ragazzi alla loro crescita culturale ma alla salute dei ragazzi e di conseguenza al blocco di una diffusione della pandemia che si sta dimostrando preoccupante. Mi preannunciavano qualche indiscrezione che voleva che i dati dell'andamento pandemico erano preoccupanti e allora noi con grande attenzione, umiltà e senso del fine insieme ad esperti e le parti delle istituzioni che a tanto devono badare faremo le nostre scelte senza demagogia e con spirito di responsabilità. C'è già una data per prendere questa decisione? Sarà valutata in questa settimana? Credo di sì, però ci devono mandare i dati. Da non trascurare che la riapertura delle scuole in presenza in Campania è stata accelerata nelle scorse settimane dopo una sentenza del Tar che appunto imponeva d'urgenza la didattica in presenza accogliendo i ricorsi presentati da comitati di genitori no dad. Scelte che anche in questo caso potrebbero incorrere in percorsi legali ma il sindaco Napoli ribadisce che saranno prese scelte coerenti ponendo un'attenzione particolare alla salute degli studenti per bloccare la diffusione della pandemia. Noi non possiamo preconizzare i comportamenti del Tar, non possiamo immaginare che cosa faranno però voglio dire noi dobbiamo fare degli atti coerenti e razionali e su questo ci dobbiamo attestare e dobbiamo fare in modo che valgano. Perciò dicevo non sono momenti demagogici o causidici o che ne so insomma bisogna fare in modo che le scelte che vengono prese siano state fatte siano fatte nella concordia e nella intelligenza collettiva dati scientifici e conseguenti decisioni. Ma mentre non mancano le polemiche perché se da un lato si valuta di chiudere le scuole e dall'altro si registrano affollamenti in diversi luoghi della città come lo scorso fine settimana il primo cittadino ai nostri microfoni ha annunciato di voler istituire un tavolo tecnico per chiedere che la città di Salerno venga divisa in quadranti assegnati alle forze dell'ordine per garantire sicurezza e maggiore rispetto delle norme anti-covid. Il prossimo weekend con San Valentino e poi martedì carnevale non possono diventare le feste del contagio, ha detto il sindaco. Le polemiche naturalmente ci sono sempre e mi rendo conto che è quasi inevitabile che ci siano. Quello che noi facciamo è nell'ambito delle nostre umane possibilità io addirittura scendo per strada come noto a dare una mano come dire anche un segnale di presenza ai cittadini di Salerno le forze dell'ordine fanno il loro lavoro. Noi a Salerno abbiamo un deficit di vigili urbani che ci mette in condizioni talora di difficile gestione. Abbiamo fatto un accollo l'altro giorno, ieri mi pare, con questore prefetto, guardia di finanza e forze dell'ordine. Oggi proporrò un tavolo tecnico dove la città in quadranti sia assegnata zona per zona alle varie forze dell'ordine. approfitto per raccomandare i miei concittadini con affetto, con amicizie e con sincero trasporto di evitare che il carnevale si trasformi in una festa del contagio. Facciamo assolutamente attenzione. Oltretutto San Valentino potrebbe essere un'altra occasione. Facciamo in modo che prevalga lo spirito dell'amore. Io sono un po' contro queste feste, francamente, un po' consumistiche. Ma comunque mi rendo conto che è un'occasione per i ragazzi per scambiarsi un'attenzione. Facciamo attenzione però noi che anche questo San Valentino a sua volta non divenga una festa del contagio. a sua volta non divenga una festa del contagio.